musica 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 bene ragazzi qui Fox e benvenuti nel secondo episodio di Minecraft Pocket Edition demo tutta tappa siamo sempre noi due idioti finalmente giorno ma l'è andato a citere mob e la vedo delle pecore ok aspetta valerio fermo fermo ok ok abbiamo precisamente 3d lana un letto ci possiamo fare ma noi siamo in due piccola 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 eccola allora intanto abbiamo trovato 3d ferro e ora stavo scavato ha trovato io non ho più scavato quella ma l'ha fatto solo ok valerio vi faccio un bellissimo piccone di ferro ok valerio intanto sto cercando un po' di pecore una patata è una patata è proprio lei oddio si sta eccitando vai via una pecora una pecora perchè sono tutte piccole queste pecore ma il colorante a che ci serve però non mi fa bestemmiare però dai ok però a noi servono delle piccore abbiamo due di lana attenzione ho 12 torce precisamente non me ne frega niente tu sei grande è grande il popolo il popolo si però ma cos'è questa cosa? sto legno qua a terra caduto che stanno un po' di messi qua così ah proprio se a noi non ci serviva il legno che cosa? ma c'è un crito davanti a te il legno moschiato quanto carbone ok abbiamo preso pure un la pecora marrone ma che vuole quant'è la di lana? 3 ci possiamo fare il letto a meno che non... sotto il carbone vado a trovare il ferro ma che fortuna Joe dai aspetta però facciamo vedere i nostri amici da casa dove c'è il ferro ah porco lo sto scavando in più vabbè ok adesso dov'è dov'è casa mo? oh quanto è? come non sai dove è casa? dov'è casa? io sono allo spoon ma insomma questo sarà po' che esiste ah è qua è qua ma non ti sta... ma a me no ma a me no no mi sto chiedendo ma si può fare l'albero di mele? allora l'albero di mele sarebbe l'albero di oak quindi quello lì è il legno di... caverna ok ok allora io intanto mi faccio un lato ecco qua e lo piasco vale vale ok piasco piasco che ne dici secondo se io mi faccio un bel secchio allora io qua chiuderei tutto mi faccio il secchio e ci pigliamo un po' di semi così li piantiamo con il secchio? diamo l'acqua diamo l'acqua ah ok scusa cosa c'è qua dietro? ah ok allora lavoriamo molto sto perro allora io farei un poco di... un poco di allargamento della casa di almeno tre blocchi ecco qua uno due e tre dimmi dai una mano almeno non annoiamo i nostri amici da casa ok perfetto e mettiamo i letti io sto a sinistra ma spero devo craftarle ancora è proprio una... guarda che c'è in mano no io lo faccio per essere simmetrico non è uno spreca non mi preoccupare cosa? le docce messi così ma non si possono troppare le cose? si da lato ti premerò da lato cosa devo premere? te ne hai premuto così no lo stai facendo bene ah ok così ah bellissimo ora te la sei riportuta non ho capito no no tu te la sei presa ok ora ho una mela che vale c'è un ferro vado a pia dell'acqua c'hai un ferro dove pia dell'acqua con un ferro vabbè questo qua vaffa apri questa porta aiuto sacca sacca aiuto allora ragazzi metti qua Valè tramite questo affare possiamo fare un bel po' di roll la roba perchè è bella ma vabbè faccio una caverna siamo attaccati a una caverna qua dietro si quella in questo caso tu si però mi raccomando apri così i creeper ci vengono a rompere le palle no non mi chiudere fuori allora facciamo un'altra volta eh no non so dove farmi la facciamo un'altra porta ho un'idea ho un'idea bellissima facciamo così guardi facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così like that facciamo ma avete visto? così no io non ho visto niente mi sono girato dall'altra parte sta cascando è proprio un nerd scavatore guardatelo 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 non mi spingere puttana aia ma ti hai fatto male? si mi hai fatto male aia aia ma come si si fa ad abbassare? non si si fa abbassare non c'è shift no però ci sono media per piazzare i blocchi anche se c'è la lava capi? no come si fanno a fare quella cosa tipo dei blocchi senza cadere come si fa nelle custom map tipo ai land of junara devi fare così sperando di non cadere ma quelli mi vogliono far male eh grazie non l'ho finita non l'ho trovata l'aspetto di junarmi non puoi cazzo di andare a vedere su steppini ok ok ma che stai facendo qui? cos'è questa cosa? le piantagioni non in casa devi farle fuori casa sennò non crescono mai coglione metto l'acqua no? fai l'acqua infinita ragione ragione arancione pasquale ragione no no momo ops ma porco demoni oh fa causa di saco pescato ok dai mi sono lì sulla porta davanti io ahhh ok c'ho una mocca ok qua dove cazzo hai il netto? una mocca una mocca hai il latte il brucio alla famiglia ok ok che stai facendo? nooo stai togliendo l'acqua non la sto togliendo non mi offendere si idiota ok facciamo così io non c'ho terra io non c'ho niente ok io non volevo farla questa serie perchè mi hai costretto mi hai detto non è vero shhhh allora qua ci sono le rose di illuminiamo un po' ci servirebbero le amabili tieni va le grazie molto gentil cos'è? che me ne faccio? grazie non ho finito che devo fare? piantali non meritare a meglio no me le ridà sei la più finta del mondo qua non le metto senti qua vicino non me ne frega un cazzo ti darò la bocca va bene la cosa bella è che cioè io sono andato per piare quella cazzo di mele è sparita appena sono due ah io c'ho una mia mua e tu nonni ah io non ho perso un cuore non ti voglio bene io ho l'acciarino eh cioè l'acciarino hai cafftato stronzo l'hai cafftato l'hai cafftato ok te l'ha dobbato si brucio ho droppato sei qua posso uccidere quel creeper? seguimi oh seguimi lui vuole uccidere il creeper ma non ci possiamo no 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 un ragno oh bufame seguimi ma lei no ti sa già sei quando va no c'è un altro io me ne vado io me ne vado no scappa uccidilo 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 oh oddio attenzione colpo wireless spedermen attenzione ma perchè qua hai arato tre pezzi quando hai messo solo insieme perchè ce n'è solo uno e gli altri ce n'è solo uno c'hanno fattuto la patata uno scheletro di ok io me ne vado a casa sai come oh infame mi ha puntato mi ha puntato chiudi la porta aiuto dormi 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 tacca tacca uno scheletro chiudi chiudi ah ragno chiudi muoviti mi lo che ci faccio dove lo scheletro non vedi ti lascia vieni a dormire muoviti e vuoi uccidere lo scheletro mio puttana no tra tutte le cose utili mi ha droppato una cazzata la porta oddio io ho tre cuori mannaggia però non te li ridiamo eh no lo so infatti adesso mangia perchè sono spavano troppo a dietro guardami posso mangiare questo pollo ti vedi devi mangiare il pollo eh c'è i cuori al massimo ciao ma come quando hai pochi cuori lo puoi mangiare ma ce ne avevo tre meno di cuori e le hai mangiate infatti ehm adesso perchè hai fatto un'altra volta ma io l'avevo craftato vabbò ok perchè l'hai craftato l'ho craftato io l'ho messa la ma io l'avevo craftato vabbò io l'ho lasciato sei di carbonio qua dentro quindi li puoi mettere se vuoi cucinare qualcosa io scendo fino a darmi una mano no io non sono un cuoco se mi dai le torce ti metto le torce in triscina ma c'era una caverra qua sotto andiamo all'esplorazio eh non mi spingere io vado a far crescere così va bene scusi però guarda c'è andata puttana la patata all'aula ricordi che ne avevo piantati due io ah ma io come se ti avevo dato una patata l'hai persa eh no l'ho piantata all'affianco bravo hai perso la patata bravo bravo ma non c'è una torcia mi puoi te' una torcia per favore c'è la Romea dimmi la torcia dove sei? sta sanendo eccomi? eccomi 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 hai是ists io li davi tu lo mi davi ok ho finito il carbone quanti me ne dai? se ti ne ho dai già sono finiti non è possibile io c'ho solo 5 toglie ah i bastoncini i bastoncini di tua cugina tieni ti ripasso e tu non fa cazzo ah no allora non ti servo non mi servo non mi servo eh me ne serva anche un po' a me ah dobbiamo fare una cesta ecco cosa però se ti togli aspetta mannaggia scendiamo vai va bene io ho il piccone di ferro se mi aspetta e non mi tieni io ci sto aspettando ci sto aspettando dove stanno questi dove stanno questi dei diamanti ferro 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 ma sei pazzito cosa sei pazzito io si ma sta sopra tutta sta roba e tu la lascio presa hai imparato come si deve fare vabbò io vado avanti senti continuo io cosa mi stai dicendo cosa vorresti dire ma non va bene stai ma sta capella non va bene cambiala allora si sta davvero a domanda stiamo giocando comunque ragazzi se vi interessa minimamente stiamo giocando alla persona mi chiamo valifox non valerio uso il mio nome d'arte comunque dimmi fox guarda che ho trovato che ho trovato ferro non mi ferro è una caverna gigantezza questa cosa è? una caverna gigantezza di gunsnerft ma solo uno che squallore io me lo faccio ma dove sei? è piena ma quindi non esistono i diamanti questa versione di guncraft ma sei scemo? davvero c'è uno spawner mob c'è uno spawner di zombie oro c'è uno spawner di zombie ma dove sei? come hai fatto ad andare lì? c'è uno spawner di zombie sicuro vale corri corri scendi giù ma dove? no no torni indietro torni indietro stai sbagliando strada stavolta ok ok vedi il mio nome dove devo andare? eh lo vedi il tuo nome laggio? ma come ti sei arrivato laggio? ok ok ho trovato una cosa un po' ambigua c'è? un cavallo zan 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 ok ma non sto trovando un sacco di roba e stanno sotto la terra vedi che ho fatto 6 scale l'ho fatto io con 6 scale no la devi continuare a scendere che ti devo dire no stai salendo torni indietro voglio mettere una torcia non posso ci sono spawner mi devi dare una mano a combattere no no io voglio questo ferro qua tutti piccoli oddio torcicollo mi sta bene cos'è madonna dei ferti particellari torcimobo torcimobo ma io non lo hai fatto con me sono un po' più grande ma è giocato sempre un po' quello guarda c'è dell'oro qua il medagliero ah qua sopra si è andato ma non no no scusami se vedi qua no ma perchè quanta cazzo sensibilità c'hai sei lì là sopra vabbè scendi tu c'è la sensibilità non necessaria un po' pesante quella sensibilità un po' pesante ma quando è il tuo che è giusto che cazzo mi hai battuto tanto non lo so però è figo eccolo eccolo allora ma c'è qua quadra che non cosa che vecchissimo questo ma dove sei perchè sparisce io non illumino io non illumino qua un filo dopo andiamo dopo andiamo illumino io allora ho illuminato oddio ma qua c'è la c'è la fine c'è un bug un glitch grafico infatti c'è acqua va bene ma tu sei solo ma perchè così poco non ho la minima idea di quanto stia durando questo episodio quindi boh concludiamo non concludiamo direi di continuare noi off camera eeeh no no è avventuroso la cosa continuiamo ok 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 ma sei stacca c'è uno scheletro staccalo stacca stacca io la testa la spada vi giuro no sto usando il piccone mannacce uso la ciao ragno chi mi sta picchiando ma se qua ci arriva qualcuno ok siamo morti lo sai sono lanciato giù no ma se qua ci arriva qualcuno oh cazzo no sono caduto giù valerio ok sta salendo il ragno il ragno il ragno fammi salire che devo fare allora ragazzi io penso che questo video ti ha durato anche due minuti in più di quanto dovrebbe durare non lo so dovrebbe durare 37 secondi rimanere dove stai ok rimaniamo fermi ragazzi allora da questo guarda che non era la luce della qua da dove sono venuto io visto non me ne feca un cazzo ok no no io scappo scappo ciao arrivederci va bene ma io non c'ho manco la spada e cafftatela ma dove cazzo sono io c'ho il legno te la potete fare una raffa un tempo non so dove sto andando va bene e anche io va bene va bene questo video mi fa schifo quindi ho un creeper caff ok ragazzi questo video è tutto noi ci vediamo c'è un arco c'è un arco e quando lo dici non me lo dici non me lo dici fare l'altro fare l'altro per favore ciao aglio ok ciao aglio ci vediamo nel prossimo video da vox è tutto da vox è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti buona giornata ciao 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 ciao